lunghezze che rimane tale perché c'è l'errore al tiro di Roma e dall'altra parte Gonzales invece ben servita va a una squadra piuttosto profonda in quanto è vero che una sola giocatrice va in doppia cifra poi ce ne sono ben sette che segnano tra i sei e i nove punti di media per cui ecco una squadra che ha una sua multidimensionalità mentre cerca di giocare a due ma poi il brutto passaggio di Bucchieri che non raggiunge Prosperi capisce tutto Gonzales che con il numero 7 in possesso di palla Offor Gonzales Gonzales cerca di giocare molto bene sul blocco portato da Offor ottimo picker 2 femminile di basket la voce che sentite è di Ferruccio Cocco la produzione delle immagini di MGA Multimedia di Marco Angelini alla telecamera quest'oggi come sempre Marco Lebel mentre di gran carriera parte subito a testa bassa il break di Roma che poi va a perdere palla con Gonzales che va a segnare il suo undicesimo punto e stavolta Roma male perché perde subito palla con Gonzales che ha una marcia davvero eccellente quando c'è ad arrivarci si lamenta per una spintarella riparte Matelica con Gramacioni per Gonzales dentro per Stegging che va al tiro a segno Laura Stegging undici quindi si va avanti di break e contro break ancora un recupero da parte di Gonzales per Gramacioni ancora contropiede in maniera eccellente gestita da Matelica non va rimbalzo di Gramacioni Gramacioni passaggio lungo per Gonzales ancora un contropiede ancora un errore ancora un contropiede con Gonzales che va a segnare il suo diciassettesimo prevale Matelica con Gonzales che arpiona la palla vagante Gonzales in attacco più 22 palle in mano per la squadra bianco-blu di Goccio Razio Cotugno Celani da tre punti dimenticata dalla difesa di Roma va a segnare il suo quarto Stegging Stegging in azione solitaria poi serve Zamparini Gonzales due minuti e mezzo al termine più 16 per Matelica Gonzales ci prova dalla lunghissima distanza e trova il bersaglio grosso Umberti dei battipaglia Firenze Zamparini ancora da tre punti ha un buon tiro da tre Asia e stavolta dai e dai lo manda dentro otto punti per